buongiorno vi chiedo scusa per l'orario di messa in rete ci casco sempre se no è messa in onda di messa in rete del video ma abbiamo aspettato naturalmente la fine della conferenza stampa di massimiliano allegri la conferenza stampa tra le più attese diciamo così perché segna questo punto di nuovo inizio della stagione della juve l'ha detto del resto allegri non c'è più margine per l'errore o ce n'è pochissimo di margine e quindi una juve che non può più sbagliare che adesso entra nel ritmo delle partite ogni tre giorni tra campionato coppa italia champions e poi si vedrà naturalmente dipenderà ovviamente dai risultati di juve sassuolo e di via reale juventus andata in ritorno però è una juve che non può più nascondersi non si è mai nascosta in realtà perché non si è mai nascosta lega detto gli obiettivi non sono cambiati certo magari prima era un po più difficile raggiungerli adesso lo sto aggiungendo io questo però adesso si sono create le condizioni per poterli raggiungere un pochino meno difficilmente ragazzi me l'ha detto anche lui ma lo dico anch'io scordatevi il campionato ma scordatevelo troppo in questo momento scordatelo poi svengono tutte la juve le vince tutte eccetera è chiaro che i numeri ti danno ancora la possibilità di entrare nella lotta a scudetto ma il senso del reale ti fa dire che è praticamente impossibile quindi la juve mantiene questa necessità assoluta assoluta di arrivare tra le prime quattro per intascare i soldi della partecipazione alla prossima champions oltre che al prestigio però bisogna guardare anche il vil denaro in questi casi dopodiché ogni partita farà storia a sé la storia di domani dice che la juve non ha battuto il verona nelle ultime quattro sfide e allora ecco lì la raccomandazione tanto entusiasmo e c'è il rischio di andare fuori giri ha detto allegri è il calmiratore lo sapete io ho twittato diverse sue dichiarazioni già ecco ho ricevuto risposte del tipo ecco ma tanto ci pensa lui a spegnere l'entusiasmo no non è ragazzi questione di spegnere l'entusiasmo è questione di essere realisti anche in questo caso se si vuol pensare che arriva Vlauic e risolvi le partite subito o le risolvi sicuramente o le vinci tutte sicuramente allora siamo andati completamente fuori tema ragazzi cioè l'equilibrio ci vuole in tutto così come ci vuole nel discorso relativo al tridente possibile ha detto allegri possibile perché non è impossibile ma devono correre tutti e tre un altro di voi mi ha fatto notare messaggio subliminale per di bala può essere può essere sempre ammesso che di bala domani giochi dall'inizio e che quindi il tridente venga proposto dall'inizio io ci credo poco che domani venga proposto dall'inizio il tridente ci credo poco conoscendo il soggetto in questione e sapendo ovviamente e considerando appunto il fatto che di bala è rientrato ieri dal sud america quindi non lo so non lo so però è vero è vero è necessario che tutti partecipino alle varie fasi l'inizio della fase difensiva voi mi insegnate è proprio nella zona d'attacco e tutti devono darsi una mano cioè non bisogna ecco il riso ragazzi qual è onestamente che adesso con l'arrivo di vlavic si sia ricaduti nel nel modo di interpretare la juventus che c'era quando c'era cristiano ronaldo cioè non era più il concetto di squadra ma il concetto di cristiano ronaldo e tutti gli altri che gli servono per andare in gol non è così non è così vlavic non è cristiano ronaldo perlomeno non lo è ancora anche se allegra detto è uno degli attaccanti più forti che ci sono in circolazione assieme ad alain mbappé quindi ha speso delle parole notevoli per un ragazzo di 22 anni che ha tanta voglia di migliorarsi ed è lì ed è lì alla maniera del perfezionismo ed è lì che assomiglia cristiano ronaldo ma non è cristiano ronaldo quindi la juve era la juve di cristiano ronaldo questa juve non è la juve di vlavic magari lo potrà diventare ma il concetto di squadra è basilare ragazzi altrimenti non si va da nessuna parte altrimenti non si va da nessuna parte poi è chiaro che a specifica domanda lui ha detto è un ragazzo che vuole sempre migliorarsi è un ragazzo che ha un grandissimo futuro una grandissima umiltà e una grandissima determinazione è chiaro che con parole così non puoi lasciarlo fuori domani non puoi lasciarlo fuori no poi verrà smentito dai fatti ma non puoi lasciar fuori un giocatore così che si presenta con queste credenziali e con queste potenzialità e con questa voglia carica e determinazione del voler giocare questa sua prima partita con la maglia della juve la squadra che lo farà esordire anche in champions dove non ha mai giocato lui è carico a pallettoni è carico a pallettoni mi dicono ragazzi e vorrei anche vedere vorrei anche vedere un ragazzo di 22 anni nella sua condizione però attorno a lui va creata la condizione giusta di equilibrio per farlo esprimere così come lui non dovrà farsi prendere la mano voler risolvere tutto da solo ma cercare anche i compagni i compagni dovranno cercare lui quando sarà possibile non esasperando la giocata per arrivare a lui come era stato fatto in tante occasioni per cristiano ronaldo quante volte compagni di reparto o non compagni di reparto hanno sacrificato una loro conclusione personale trasformandola in passaggio per cristiano ronaldo quasi che ci fosse una devozione nei suoi confronti no togliamo il quasi e con vlaovic questo non dovrà succedere la squadra dovrà girare bene con un vlaovic in più e perché no che con un zaccaria allegra detto vediamo se li faccio giocare nel linguaggio di allegri secondo me c'è che al 100 per cento magari tutte due no uno al 99 l'altro al 90 diciamo così attenzione però che gioca sicuramente artur lo ha detto allegri in mezzo si tratta di capire con quale schieramento perché giocherà sicuramente danilo a destra e luca pellegrini a sinistra anche se alessandro è già rientrato a torino negativizzato in mezzo non è stata fatta domanda specifica su bonucci così come non è stata fatta domanda specifica su dibala in attacco in mezzo secondo me è più un delict chiellini è più un delict chiellini e poi bisogna vedere il centrocampo com'è se a tre o a quattro meccani è rientrato ieri sera o oggi addirittura e sarà comunque disponibile non vuol dire giocherà quadrado è abbastanza distrutto allegri ha detto non trovava neanche l'ingresso della continassa quindi presumo che partire dalla panchina fosse un 4 4 2 chi sarebbero i 4 di centrocampo artur zaccaria rabbiò mckenny non vedo altre alternative però cosa fai metti sì mckenny ci può giocare in fascia a meno ci abbia depistato tutti e metà quadrado a centrocampo a destra con rabbiò a sinistra e artur e zaccaria in mezzo con morata e vlaovic davanti mi sono fatto un'idea più o meno di questo tipo di formazione però naturalmente si tratta di aspettare non tanto del resto giusto qualche ora magari questa sera avremo maggiori indicazioni sullo schieramento e vedremo anche di approfondire qualche altra tematica se mi verrà in mente però ragazzi non vedo l'ora che si giochi non vedo l'ora che si giochi sta benedetta partita iscrivetevi al canale seguitemi sui social e vediamo di approfondire qualche cosa questa sera se ci sarà se non ci sarà il video ci sarà uguale ok ciao ragazzi